La Italian Baseball League una certezza ce l'ha, tra le quattro che si giocheranno il titolo ci sarà l'Unipol Sai Bologna. Non era ben chiaro in campo sabato sera ma guardando la classifica e considerando che la squadra bolognese ha 5 gare di vantaggio sulle quarte, Nettuno e San Marino e che la prossima settimana è previsto lo scontro diretto, inevitabilmente Bologna si troverà con 6 gare di vantaggio su una quinta. Comunque della brillante regular season della formazione parliamo con Claudio Liverziani e Marco Nanni. Sì era quello che volevamo questo weekend di arrivare carichi anche dopo la settimana bella tosta di Coppa, sarebbe importante qualificarci già subito settimana prossima per insomma dai programmare un po' la seconda fase, far riposare chi è un pochino più stanco e cosa che si è riusciti a fare anche negli ultimi anni è servita quindi speriamo già settimana prossima di chiudere. È una IBL tutto sommato piuttosto equilibrata tant'è che i tre posti a parte il vostro saranno decisi in volata molto probabilmente. Infatti sì mi ricordo la nostra conversazione dell'anno scorso proprio a riguardo di questa nuova formula che secondo me è ottima, c'è molto equilibrio anche dovuti a lanciatori stranieri di tutte le squadre che sono di altissimo livello. E devo dire che anche molti lanciatori italiani quest'anno hanno alzato il livello sicuramente anche delle partite che prima magari finivano punteggio più alto e ogni partita non è più scontata come una volta, si può vincere, si può perdere con tutti. Per il momento sta andando come volevamo e quindi di questo sono felice. Ci siamo trovati nel momento, quindi nelle settimane importanti, la settimana scorsa e un paio di settimane prima, ci siamo trovati in un buono stato di forma e sono stato ottimo lo staff a fare questo lavoro. Quasi tutti danno per scontato che nel girone di semifinale ci sarà anche il Rimini che ha vinto due partite con il Nettuno 2. Per quel che riguarda gli altri due posti nessuno si sbilancia, né i due bolognesi né il manager del Parma Gilberto Gerali. E' veramente una bagara adesso in quelle posizioni lì perché già vedi già stasera mi sembra che sia ritornato tutto uguale all'altro ieri quindi secondo me l'ultimo weekend deciderà. E' quasi come prendere un 6 al Super Nelotto, non è facile, ci sono gli scontri diretti le prossime settimane da parte di San Marino e non è facile prendere, non è facile. San Marino è una squadra che sa giocare questi momenti, ecco forse quindi un qualcosino in più può avere che le altre due però, insomma non è facile, le prossime settimane saranno belle da vedere. Non saprei, è un pronostico difficile, San Marino sta facendo fatica, Rimini sulla carta ha qualcosa in più quindi secondo me il Rimini dovrebbe entrare, però se la giocheranno penso fino all'ultima giornata. In effetti era un weekend molto atteso ma i pareggi tra Godo e San Marino e tra Nettuno e Padova che si sono sfidate sul piano dei muscoli a suon di fuoricampo lasciano più o meno la classifica come era. Con Gilberto Gerali parliamo anche di questo giovane Parma che stupisce per buona parte della gara, gioca alla pari con squadre più accreditate ma al quale alla fine manca sempre qualcosa. Abbiamo una squadra un po' leggerina che fa fatica a fare dell'extra base quindi per fare dei punti noi dobbiamo veramente faticare e invece col Bologna ha il minimo sbandamento, ha la minima disattenzione, te la fan punire, guarda il nono inning e così. Però abbiamo girato la mazza meglio e quindi questo è un segnale positivo. Questi ragazzi al primo anno sapevamo che avevano fatto fatica, che sarebbe stato tutto più difficile però ci sono dei segnali confortanti. Io dei ragazzi al primo anno tipo Fossa, De Otto eccetera sono molto contento. Stanno crescendo bene e così anche il resto dei ragazzi, anche i lanciatori insomma per otto riprese hanno fatto un buon lavoro quindi sono contento. E per chiudere lasciamo il baseball e parliamo di calcio, parliamo del ruolo che Gilberto Gerali sta assumendo nella trattativa che Mike Piazza, l'ex campione italo-americano, sta conducendo per acquisire il Parma Calcio. Sicuramente la mia amicizia con Piazza che risale al 2007-2009 insomma ha fatto sì che sapendo lui che poteva essere un suo contatto, un suo tramite con il Parma, ha portato avanti la cosa, ha fiducia in me, sto facendo un po' di lavoro per lui. Come andrà a finire non lo so neanche io perché è una vicenda complessa, comunque si dovrà finire la prossima settimana. Spero per lui perché ci tiene tanto che possa finire bene, però sono numeri importanti quindi è meglio andare con cautela. Caldo! 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 Caldo!